La scottone ha pensato ad una linea bambino con un servizio esclusivo che garantisce un prodotto fresco giornaliero. La scottone a Cava dei Tirreni, Viale Marconi, numero 13, vi aspettiamo. Prosegue alacremente nel territorio del Salernitano l'attività della Guardia di Finanza, finalizzata a tutelare la salute dei cittadini ed a stroncare i traffici illeciti. Nell'ambito dei controlli alla prevenzione delle violazioni nel settore della sicurezza prodotti, infatti le fiamme gialle e il nino cero inferiore, dopo aver accertato la commercializzazione di merce riproducente marchi contraffatti, nonché di giocattoli non sicuri, hanno denunciato un cittadino straniero titolare di un'attività commerciale nel comune di Pagani. In particolare, i giochi destinati ai bambini erano assemblati con pezzi facilmente staccabili a rischio in gestione o soffocamento ed erano inoltre sprovvisti del marchio della comunità europea. Sono stati dunque sequestrati oltre 100.000 articoli non sicuri. La Guardia di Finanza del gruppo di Eboli invece ha individuato un bar del comune di Battipaglia dove venivano commercializzate sigarette di contrabbando. I baschi verdi, nel corso dell'intervento, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 3,5 kg di bionde destinate ad essere illecitamente vendute. Al titolare dell'attività è stata inflitta inoltre una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro.